Buonasera, allora vi dico dove mi trovo. Mi trovo davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, ok? È il famoso MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. Di là, dall'altra parte della strada, c'è il Ministero del Lavoro. Questa storia ve la racconto però partendo dal Ministero dello Sviluppo Economico, perché è il primo che non ha detto nulla. Su che cosa? Su una storia che vi avevo raccontato nei giorni scorsi, e cioè che Arcelor Mittal, il padrone dell'ex Ilva, il padrone franco-indiano dell'ex Ilva, ha licenziato, ha fatto licenziare attraverso i suoi uomini, ha fatto licenziare uno dei due lavoratori che erano stati richiamati con una lettera formale perché avevano utilizzato la loro bacheca Facebook per promuovere una fiction televisiva, cioè la fiction televisiva in onda su Mediaset con Sabrina Ferilli, che raccontava l'Ilva, raccontava quello che accade a Taranto. Stiamo parlando di una Ilva, di un'azienda che è sotto processo per danno ambientale, per un'azienda su cui sono stati investiti tanti soldi e su cui ancora adesso il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso Invitalia, mette dei soldi. Bene, è accaduto che uno dei due lavoratori raggiunti da un avviso formale perché avevano osato pubblicizzare attraverso le loro pagine Facebook questa fiction televisiva. Bene, uno dei due è stato licenziato, è stato licenziato. L'altro invece si è accettato di abbassare il capo, capisco, e ha utilizzato Facebook per chiedere formalmente scusa all'azienda, scusa a Darcelor Mittal. Allora io domando, l'ho già fatto con un'interrogazione parlamentare, ma fa così paura a Darcelor Mittal una serie televisiva? Fa così paura? E il Ministero dello Sviluppo Economico, il governo quindi, non ha nulla da dire? Cioè qui sta accadendo che ci stiamo mettendo dei soldi. Cioè attraverso Invitalia il governo è dentro, è dentro l'affare Ilva. E allora adesso attraverso la strada e vado dall'altra parte, dove c'è un uomo della sinistra del Partito Democratico che si chiama Orlando, è lui il Ministro del Lavoro. Neanche Orlando ha proferito parola. Non ha detto nulla. Lo ripeto, il Ministro, qui c'è il Ministro del Lavoro, il Ministro Orlando non ha detto nulla su questo fatto che è accaduto oggi, poche ore fa. Un lavoratore dell'ex Ilva, del gruppo Arcelor Mittal, è stato licenziato perché sulla propria pagina Facebook ha invitato a guardare una serie televisiva in onda su Mediaset. Allora io mi domando se è così lesiva perché Arcelor Mittal non denuncia Mediaset? Perché non denuncia Simona Itzio che è la regista, piuttosto che Ricchi Tognazzi, piuttosto che la Ferilli? Perché non li denuncia? Qui in Italia stanno accadendo delle cose incredibili, incredibili. Adesso è partito per effetto del decreto che è immediatamente attuativo ma deve passare dal Parlamento. È partita questa tarantola del vaccino obbligatorio per il personale medico sanitario. Ok, un qualcosa che quando arriverà in aula io ovviamente voterò no perché non capisco il motivo per cui ci debba essere un obbligo vaccinale così minatorio nei confronti del personale medico. Quando è proprio lo stesso governo che sta zitto, che non dice nulla sulla vicenda che vi ho raccontato, sta zitto anche rispetto alla segretezza che Big Pharma ha comandato. Ha comandato. E infatti succede che AstraZeneca da che all'inizio della vicenda doveva essere negata, vietata agli over 60 diventa invece adesso vietata agli under 60 e consigliata agli over 60. E quindi c'è, ma poi ne parleremo stasera, c'è tutto una cosa incredibile per cui i medici dovrebbero essere, si devono vaccinare obbligatoriamente altrimenti vengono spostati ad altra mansione. Una cosa incredibile qui ormai in un contesto fatto di precarietà del lavoro, ed ecco perché mi sono rivolto anche al Ministero Orlando, in un contesto di precarietà del lavoro, questo governo retto da un banchiere, da un banchiere centrale, non fa nulla a sostegno dei lavoratori. Ma del resto avete mai visto un banchiere centrale che si preoccupa dei lavoratori? No. Bene, allora visto che qui c'è Giorgetti della Lega ed erano quelli che dicevano padroni a casa nostra. Bene, allora un padrone straniero sta licenziando lavoratori italiani. Giorgetti non è niente da dire. Orlando, al Ministero del Lavoro, della sinistra del Partito Democratico, non è niente da dire. O state vendendo i lavoratori, o state svendendo gli italiani, o state svendendo l'Italia. Questo è quello che accade nell'Italia del governo retto dal governatore Mario Draghi. Quello che, come ebbe a dire il giorno della fiducia, è l'incappucciato della finanza. E infatti il potere vince sempre. Ora ha il potere della finanza, ora ha il potere delle multinazionali, ora ha il potere di Big Pharma. Fanno quello che vogliono. Fanno quello che vogliono. E adesso stanno utilizzando il vaccino, ok? Stanno utilizzando il vaccino perché non sanno come risolvere il problema. Ma stasera ne parlerò più compiutamente da Del Debbio con altri ospiti e tratterò esclusivamente anche il tema dell'obbligatorietà vaccinale che quando verrà in aula vedremo chi voterà. Noi, io, Italexit, dirà no. No, no.